Un primo incontro il quale ne seguiranno altri. Parole dell'Onorevole Bindi che testimoniano l'avvio di una stretta collaborazione anche dal punto di vista degli strumenti legislativi tra le due commissioni parlamentari, nazionale e regionale, per colmare le lacune di una legge, quella sull'amministrazione dei beni confiscati, che va sicuramente rivista. Il presidente nel corso della conferenza è tornato sul tema degli amministratori giudiziari e sulla sospetta gestione da parte di alcuni del patrimonio affidato, tema sollevato in questi giorni dall'ex prefetto Caruso. L'Onorevole Bindi ha incontrato ieri proprio il direttore nazionale dell'Agenzia dei beni confiscati per ottenere dei chiarimenti e per ricevere tutta la documentazione utile, perché qualora dovesse emergere qualsiasi illicità da parte degli amministratori, ha continuato la Bindi, la commissione sarà pronta a denunciare. Di sicuro un primo passo per regolamentare la situazione potrebbe essere l'istituzione di un albo unico degli amministratori. A conclusione del suo intervento ha anche annunciato che il prossimo incontro avverrà con i rappresentanti dell'ABI, perché le banche hanno una grossa responsabilità per quanto attiene la rinascita economica e la sopravvivenza delle aziende confiscate alla criminalità attraverso la concessione del credito. Non abbiamo registrato un fallimento, perché i risultati ne sono stati ottenuti, non solo perché questa è la città dove c'è, metà dei beni sequestrati alla mafia sono in questa città. E le misure di prevenzione e la gestione di questi beni che è stata fatta in questa città e in questa regione ha fatto da scuola in tutta Italia. Quindi non possiamo dire che si tratta di un fallimento, possiamo dire che il nostro ordinamento e l'applicazione delle norme di cui oggi disponiamo ha presentato dei limiti, presenta dei limiti per cui il legislatore deve intervenire e ci dobbiamo impegnare ad aggredire sempre di più i patrimoni dei mafiosi, ma soprattutto ad avere la capacità di restituirli alla comunità come occasione di lavoro, di economia e di riscossa civile.